Lentini, sventato furto di agrumi, polizia sequestra vettura rubata a carica con oltre 200 kg di arance. Nell'ambito dell'attività finalizzata al contrasto del ferromono dei furti di agrumi in provincia, un equipaggio del commissariato di Lentini nella mattinata di ieri è intervenuto in un fondo agricolo in contrada Armicci per una segnalazione di ladri in azione. Il tempestivo arrivo dei poliziotti trovandosi non distante dal fondo agricolo per controlli finalizzati al contrasto dei furti di agrumi ha consentito di sequestrare un'autovettura poco prima rubata già caricata con oltre 200 kg di arance. L'arrivo degli uomini nel commissariato e l'avaria improvvisa del mezzo rubato hanno impedito ai ladri di allontanarsi con l'area furtiva che hanno abbandonato dandosi alla fuga. Il mezzo è stato sequestrato e gli agrumi restituiti al legittimo proprietario.